La proprietà ha avuto questa bellissima e stupenda idea di, direi, forse il termine non regge, riconvertire, ma quello di dare nuova vita a un luogo che ha fatto storia, storia in ambito imprenditoriale, in ambito di successi, sacrifici, tutto quello che dietro un'impresa ci può stare, che oggi cambia volto e dà un'opportunità alla cittadinanza veramente importante, che noi vogliamo e siamo qui per ringraziare ed apprezzare moltissimo. Per quanto riguarda il resto della rassegna, non posso che complimentarmi con il MAC che per noi come amministrazione comunale, come città di Marsala abbiamo avuto modo di sperimentare e di apprezzare in tantissime altre occasioni, nelle loro rassegne che hanno preceduto questa e che contemporaneamente le daranno anche alla stagione estiva in altri luoghi, sempre la Marsala, e luoghi completamente, direi, innovativi e veramente interessanti da scoprire. Quindi auguri a tutti, il saluto da parte nostra e un abbraccio a chi è creduto in questo progetto e lo porta avanti. Grazie ancora. Grazie, Sessore, e io auguro.